E dalla montagna seduta andremo in Chakrasana, nella versione seduta, quindi in posizione della ruota. Partiremo il braccio destro, si troverà dietro, ovviamente sapete che abbiamo la distanza, il dorso della mano è appoggiato dietro la sedia, braccio morbido, palmo che guarda al soffitto, quindi dietro questa posizione, inspiro e espiro, ruoto un po' come una ruota, quindi giro un po', all'inspiro torno e all'espiro, morbido e espiro, sciolgo la posizione, inverto le braccia e vado. Anche dall'altra parte, disegnare questo cerchio, questa ruota, espiro, tre movimenti per l'altro vanno bene, e giù, sciogliete e muovete un po' le spalle, andate a fare altri tre cerchi con le spalle ruotate verso l'indietro, bisogna disegnare un'altra ruota lateralmente e ritornate nella montagna seduta.